Ok, per realizzare questa piccola ranocchia ci serviranno della ciniglia verde, io ho usato questo color menta, una ciniglia rosa, ne serve veramente pochissimo, dell'imbottitura, degli occhietti medi con la loro sicura, questa qua, e un uncinetto numero 5. Partiamo subito! Partiamo quindi facendo due catenelle, 1, 2, entro nella prima, faccio una maglia bassa, e sempre nella prima vado a fare altre 5 maglie basse, per un totale di 6, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Come avete visto mi sono portata dietro il codino, così poi è solo da tagliare. Entro nella prima maglia bassa che ho fatto e faccio 2 maglie basse nello stesso punto. Vado a fare quest'operazione, quindi questo aumento, per 6 volte, quindi 1 l'ho fatta, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto vado a fare una maglia bassa normale, un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. Dopodiché carico il filo nella maglia successiva, entro, tiro fuori il filo, carico come per fare una maglia alta normale, ma tiro fuori solo due asole. Di nuovo carico il filo, nello stesso punto entro, tiro fuori due asole, ho 3 asole sull'uncinetto, carico il filo, entro, tiro fuori il filo, tiro fuori solo due asole, ho 4 asole sull'uncinetto, l'ultima volta carico il filo, entro, tiro fuori due asole, ho 5 asole sull'uncinetto. Una volta che avrò 5 asole sull'uncinetto, carico il filo e le chiudo tutte insieme. Dopodiché, nel punto successivo vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, entro, 1, 2. A questo punto, una maglia bassa, un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa e un aumento di nuovo. A questo punto vado a rifare la stessa cosa che ho fatto da questa parte, quindi carico il filo, entro nella maglia successiva e tiro fuori due asole. Carico, tiro fuori due asole, carico, tiro fuori due asole, carico, tiro fuori due asole, ho 1, 2, 3, 4, 5 asole sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto insieme. Di nuovo, nella maglia successiva vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, dopo di che, una maglia bassa e un aumento in quella successiva. Ora facciamo 6 aumenti intervallati da 2 maglie basse normali, quindi, una maglia bassa, un'altra maglia bassa nel punto successivo, un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, per 6 volte. Questa è la prima, quindi, una maglia bassa, un'altra maglia bassa, e un aumento, e siamo a 2. Una maglia bassa, un'altra maglia bassa, un aumento, e siamo a 3. Una maglia bassa, un'altra maglia bassa, un aumento, e siamo a 4. Una maglia bassa, un'altra maglia bassa, un aumento, e siamo a 5. L'ultimo, una maglia bassa, una maglia bassa, e un aumento, e siamo a 6. A questo punto faremo 72 maglie basse, cioè 3 giri da 24. Però, essendo che stiamo lavorando a spirale, sono 72 maglie basse, senza mai fermarsi. Quindi, 1, 2, 3, Una volta arrivati a 72, tiriamo un po' il filo, possiamo mettere i nostri occhietti, che vanno posizionati, all'attaccatura, di questa bombatura. Quindi, ve li faccio vedere, vedete, in questo modo. Quindi, dove, diciamo, finisce la parte lunga, della maglia alta, entriamo e mettiamo i nostri occhietti. 1, con la sua sicura. Magari se non siete sicuri dove posizionarli, prima posizionateli senza sicura e mettete dopo. e 2. Con la sua sicura. A questo punto, tagliamo un pezzettino di rosa e andiamo, praticamente, a contare 1, 2, nella terza, da sotto, facciamo uscire il nostro uncinetto, prendiamo il filo rosa, lo facciamo passare per 2 catenelle, in questo modo, e usciamo dall'altra parte, che sarà a 3 maglie, 1, 2, 3, dall'altro occhio. E, molto semplicemente, facciamo un nodino. Non fate un nodino troppo spesso, perché sennò la bocca viene tirata verso l'interno e praticamente scompare. Quindi, un nodino che non tiri troppo la bocca e poi un altro per assicurarlo. Tanto poi, dentro ci sarà l'imbottitura, quindi non verrà disturbato. una volta che abbiamo fatto questo, possiamo riprendere la lavorazione e iniziare a diminuire. quindi faccio per 6 volte dei gruppi da 2 maglie basse, quindi 1, 2, e una diminuzione. Una diminuzione vuol dire che entro, carico il filo come per fare una maglia bassa, ma non la faccio, entro in quello successivo, carico il filo come per fare una maglia bassa, ho 3 asole sull'uncinetto, carico e le chiudo tutte insieme. e questa è una. Di nuovo, 2 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, e chiudo. E siamo a 2. 2 maglie basse, diminuzione. 1, 2, chiudo. E siamo a 3. 2 maglie basse, una dietro l'altra e una diminuzione. 1, 2, e siamo a 4. 2 maglie basse, una diminuzione e siamo a 5. 2 maglie basse, una diminuzione e siamo a 6. Una volta fatte queste 6 diminuzioni, rifacciamo la stessa cosa, ma invece che fare 2 maglie basse e una diminuzione, facciamo una maglia bassa e una diminuzione. quindi una maglia bassa e una diminuzione e sono a 1. Una maglia bassa e una diminuzione e sono a 2. Una maglia bassa e una diminuzione e sono a 3. Una maglia bassa, una diminuzione e sono a 4. Una maglia bassa, una diminuzione e sono a 5. Una maglia bassa, una diminuzione e sono a 6. a questo punto tiro un po' il filo e imbottisco la nostra ranetta in modo che venga bella tonda. A questo punto faccio 6 diminuzioni. Quindi entro entro diminuzione e sono a 2. Entro entro diminuzione e sono a 3. Entro entro diminuzione e sono a 4. Entro diminuzione e sono a 5. Entro e dentro diminuzione e sono a 6. Vedete che il buco non è chiuso. Taglio il filo un po' lunghetto vado a fare una maglia bassissima in questo modo lo faccio uscire tiro un po' ok dopodiché lo faccio entro in questo modo lo faccio passare dentro le ultime asole mancanti potete farlo con l'uncinetto potete farlo con l'ago io di solito lo faccio con l'ago quando rimane un po' più grande quando sono così piccoli gli spazi lo faccio tranquillamente con l'uncinetto vedete che tirando il buco si chiude dopodiché andate a nascondere un po' il filo e a farlo navigare lungo la nostra ranocchia in modo che sia bene fermato e sia diciamo impossibile che esca fuori con questa tecnica potete anche se ci sono riempire alcuni spazi magari un po' vuoti se vedete che magari in alcuni punti avete avuto una mano un po' più lasca o un po' più stretta a questo punto tagliamo il nostro filo ed ecco qua la nostra ranetta è fatta spero che questo tutorial vi sia piaciuto iscrivetevi e lasciate un like in modo che il canale possa crescere grazie e ciao